Buonasera, grazie, grazie al numerosissimo pubblico e anche a quelli da casa perché sono tanti anche lì, sono un po' emozionato perché comincia una nuova avventura, questa è la prima puntata della seconda serie del Teatro del Lunedì, moltissimi sono stati quelli che ci hanno seguiti da gennaio a maggio, a tutto maggio dell'anno scorso, siamo arrivati anche a numeri importanti ma via streaming e quando vi abbiamo salutati dicendovi non si chiude qui questa esperienza perché molti ci hanno chiesto di rinnovare gli incontri che abbiamo fatto, vi abbiamo detto ok, riprenderemo sicuramente ma in una formula diversa ed eccoci qui, siamo dal vivo in teatro al Teatro Oscar e siamo in streaming in rete e comincia però anche tutta un'altra cosa, io sono l'unico superstite della vecchia redazione ed è qui a darvi il benvenuto ma fa solo questo compito perché poi si eclissa e entra in campo la nuova redazione del Teatro del Lunedì che è composta da ragazzi, noi scommettiamo sui ragazzi perché hanno cose da dirci importanti, hanno cose da dire a questo mondo con una nuova sensibilità. Quindi mi tolgo di mezzo subito e lascio la parola alla nuova redazione del Teatro del Lunedì, prego. Eccoci qui, che cosa ci porta qui? La curiosità, l'interesse, le domande, forse le domande e delle risposte chiare, magari. Allora servirebbero dei dati, dei grafici. Non lo so, forse ci porta qui lo sconcerto, forse lo stupore, di certo una parola forte, la speranza. Come possiamo trasformare tutta questa paura, questo dolore, il panico in un'occasione? Da dove cominciare? Come spiegarlo a parole? Quello che mi ha stupito subito sono state le loro belle facce. Ricordo che li osservavo all'entrata del grande giardino, che ospitava le loro nuove abitazioni. Non uno che fra loro piangesse, non uno che si disperasse. Questo mi straniva. La luce del sole accarazzava le loro pelli, li illuminava dalla testa ai piedi. Sono stata un po' ferma, lì. Poi mi sono avvicinata. Ero emozionata e anche un poco terrorizzata. Ero convinta che quella loro profonda calma nascondesse qualcosa. Se chiudo gli occhi, mi vedo ancora lì, pronta a scappare al primo accenno di tensione. Ricordo che mi sono diretta verso il centro del cortile. Due bambini giocavano con una palla un po' sgonfia. E di fianco a loro una ragazzina faceva roteare in aria il suo fular rosso e blu. Tutto era quieto. Un signore anziano stava passeggiando nel portico e due donne chiacchieravano ridendo e scherzando, sedute su una panchina. Un uomo aveva appena spento una sigaretta e stava finendo di telefonare. Altri due sorseggiavano un tè. Mi sono fatta avanti. Immaginatevi, no? La mia voce risuona tutto intorno. Ciao. Buongiorno. E ricevo indietro dei sorrisi veri. Pian piano vengono verso di me, si presentano uno ad uno. Sadika, viso dolce. Aji, nonno buono. Navab, padre paziente. Sharifa, madre coraggiosa. Ali, il meraviglioso pestifero. E poi Tabassum, Nabi, Rashman, Fuzia, Muhammad, Madina. Dopo un attimo non ricordavo più nessun nome. Mi ci sarebbero voluti giorni per impararli tutti. Loro invece ricordavano il mio. C'è chi è andato a chiamare la mamma per presentarmela. Chi? Il papà, il marito, lo zio. È lì che ho capito che si trattava di tante famiglie. O parti di famiglie. Di qualcuno c'è solo la mamma. Di qualcuno solo il papà. Di qualcuno solo i nonni. Mi è rimasto subito impresso Erfan. Lui ha dieci anni. È in sedia a rotelle. E quando si è presentato mi ha lasciato in mano uno schizzo che aveva appena fatto lui. È un artista. Al genio del disegno. Queste famiglie non si conoscevano tra di loro. Una sola cosa le accomuna. Sono afghane. Il 19 agosto sono state evacuate da Herat attraverso voli speciali dell'aeronautica militare. Hanno tanto da raccontare o preferiscono dimenticare? No. Chi parla inglese vuole subito che io sappia la loro storia. Hanno bisogno di essere accolti. Ma qual è il loro reale bisogno? Io non sono capace di fare nessuna di queste cose. Non sono in grado di riportare loro nulla di ciò che hanno perso. Le loro ville. Le loro lussuose automobili. I loro prestigiosi mestieri. Le loro numerose famiglie. I loro sogni. I loro cibi preferiti. Non sono arrabbiati. Sono tranquilli. Silenziosi. Sono forse rassegnati. No. Respiro. Aria di speranza. Tutti gli intrecci e le reti delle loro vite sono rimasti lontani. Ma respiro. Aria di speranza. La stessa mia dannata speranza. Lo stesso mio cuore che attende tutto in attesa di tutto dopo aver perso tutto e in attesa di sollevarsi da terra e ricominciare. Ma è possibile. Si può cucire una storia strappata nel mezzo. Intuisco che la risposta è lì. Tra quelle facce. Fisso gli aneddoti. Gli accenni. Sbagliati. Capricci. Così simili ai miei. Senza accorgermi. Mi affeziono al loro destino. Il destino irriducibile dei tragici. Dei versi di Euripide. Sollevati dal suolo. O infelice mia testa. Solleva il collo. Tutto questo non è più Troia. Non siamo più sovrani di Troia. Sopporta i cambiamenti della fortuna. Naviga secondo la rotta. Naviga secondo il destino. Non rivolgere la prora della vita contro l'onda. Cosa c'è che non debba piangere? Io che ho perduto la patria. I figli. Lo sposo. O ricco vanto che ora ti attenui degli avi miei come nulla. Ormai tu sei. Cosa devo dire? Cosa devo tacere? Dove? In quale parte della terra? Di chi sarò schiava? Io, vecchia. Io che ormai sono l'immagine della morte. Io che ho l'inferno sul volto. Farò la portinaia? Farò la babysitter? La colf? Pulirò i bagni? Io che a Troia avevo onori regali? Ero regina e mi sono sposata in casa di re. Io ho guidato alla luce i miei bambini. Nessuna donna troiana o greca o barbara avrebbe mai potuto vantarsi di avere figli migliori dei miei. Eppure quei figli li ho visti cadere e ho pianto sulle tombe dei loro corpi. Perché dunque volete farmi alzare? Per quali speranze? Un giorno eravamo qualcuno ma ora vedo ciò che fanno gli dei come essi innalzano ciò che non vale nulla e abbattono ciò che è buono. Ti prego mistero che sostieni la terra chiunque tu sia Zeus necessità della natura oppure mente dei mortali. Davvero il destino impone mali terribili agli uomini. Abbiamo appena sentito alcuni versi un po' rimaneggiati tratti dalle troiane di Euripide. Perché siamo partiti da qui? Perché nel 1961 George Steiner pubblica un libro che si chiama La morte della tragedia in cui appunto parla della morte della scomparsa del genere tragico. La voce tragica tace o ci giunge indistinta. Le stelle sono diventate irraggiungibili. Perché il genere tragico sembra inefficace e sterile nella modernità? Perché la tragedia dice Steiner ha bisogno di una concezione organica del mondo. La mitologia classica o il cristianesimo presuppone cioè un destino misterioso. Nell'Occidente moderno invece la catastrofe viene come assorbita. Diventa riparabile dalla tecnica. Diventa cioè dramma. I quotidiani italiani del 17 agosto della scorsa estate parlavano rispetto a ciò che stava accadendo in Afghanistan di caos disastro fallimento disfatta tutti termini che legittimamente descrivevano quanto stava accadendo secondo una prospettiva ben specifica il fallimento di strategie politico militari. Però per alcuni di noi che hanno avuto la fortuna di conoscere alcuni di questi profughi lo stesso monologo che abbiamo sentito prima letto da Giulia è stato scritto da Maddalena che lavorando li ha conosciuti e di fronte a quei volti a quelle storie a quelle vite belle che improvvisamente venivano travolte ecco ridurre la questione a delle strategie sembrava poco per questo ci è venuta in mente la tragedia perché è nella tragedia che si riguadagna come nella commedia di Dante dice sempre Steiner che l'uomo è messo di fronte al suo limite al mistero del suo limite io sono Mattia Gennari questo è il teatro del lunedì e ci troveremo un lunedì sì e un lunedì no a dialogare con persone che ci colpiscono su tematiche che ci stanno a cuore e il tema di oggi come si è già un po' capito sono le migrazioni nello specifico a partire da quanto è accaduto in Afghanistan lo faremo con Daniele Biella che invito sul palco che è nato nel 1978 qui in Brianza e collabora con diverse testate nazionali tra cui Vita che ha supportato la realizzazione del nostro incontro e di cui oltre ad alcuni libri Naval l'angelo dei profughi l'isola dei giusti e con altri occhi ricordo il bellissimo reportage per Save the Children nascosti in piena vista insieme a noi come vedete c'è un'altra poltrona che dovrebbe essere occupata da Ali Esani che è nato a Kabul nel 1989 e vive in Italia ma non è ancora arrivato e speriamo che lo faccia insomma di lui non racconto nulla nella speranza che ci racconti la sua storia rimaneggiando un po' quella che doveva essere la nostra scaletta inizio subito con alcune domande per Daniele che innanzitutto saluto e ti chiedo di raccontarci chi sei che lavoro fai insomma buonasera a tutti sia chi è qui al teatro sia chi è online grazie per l'invito però giusto un pezzettino prima di entrare in profondità avete applaudito me che sono salito da sette scale non abbiamo applaudito Giulia giusto che ha fatto questo stupendo quindi monologo facciamo un applauso posteriore forse eravamo presi anche dal patos no sto scherzando alla fine sono proprio situazioni in cui poi come dicevi giustamente tu Mattia qualcuno vive esperienze in modo diverso c'è chi ha conosciuto amici che vengono dall'Afghanistan chi ha colto persone quindi a seconda delle esperienze che ha avuto è chiaro che legge in modo diverso queste situazioni sente le parole in modo diverso le facciamo tutti in modo diverso e io quello che faccio principalmente da 15 anni da questa parte è raccontare storie cercare di raccontare storie a livello soprattutto giornalistico poi sono riuscito negli ultimi anni come citavi a tradurlo anche in alcuni libri che sono usciti da 2015 in poi sempre di testimonianze di persone vere proprio per andare a cercare a stimolare le persone a entrare nelle storie perché oggi più che mai siamo in un'epoca in cui forse la distanza tutto il flusso di quello che succede poi ultimamente negli ultimi anni anche con le preoccupazioni legate alla pandemia in questa zona del mondo a volte ci allontanano magari anche solo da una relazione diretta con storie che sentiamo raccontare da lontano allora riuscire a ridare voce un volto un nome alle persone che incontro nel mio quotidiano è un po' una missione tra virgolette laica nel mio fare giornalista insomma un'altra nota biografica poi la smetto proprio il fatto che sono riuscito nel tempo a fiancare questo lavoro giornalistico a un lavoro intenso nelle scuole oltre a fare incontri come questo a livello pubblico andare nelle scuole anche nelle elementari ma le medie superiori a cercare di portare queste tematiche in particolare legate alle migrazioni forzate non andando solo io perché alla fine io lo racconto sempre lo posso andare a raccontare di quale volta sono stato su una nave a vedere i salvataggi in mare piuttosto che ai confini ma portando poi persone come Alì o persone che hanno vissuto purtroppo per loro una migrazione forzata proprio per cercare ancora di più uno scambio poi con quelli che sono i ragazzi che per la prima volta sentono parlare dal vivo magari una persona che prima avevano solo sentito in televisione il nome richiedente asilo rifugiato profugo cos'è insomma ristabilire la centralità della persona è un po' l'obiettivo basta finisco qui ho sposato due figli basta ok la prima domanda che ti farei riguarda proprio gli ultimi avvenimenti dell'Afghanistan ti chiederei innanzitutto di aiutarci a capire quali sono gli avvenimenti principali a ripercorrerli un po' e in secondo luogo a cercare di capire qual è la situazione attuale per esempio alcune domande che preparando l'incontro sono venute fuori riguardano i talebani stessi che sostegno hanno all'interno della popolazione e le persone che sono lì o che sono venute via qual è la loro condizione ecco un po' di domande ma almeno permetto innanzitutto ma giusto per dovere anche per perché è giusto così io come giornalista mi occupo di varie tematiche in particolare di rifugiati ma soprattutto del viaggio dell'arrivo poi nei luoghi sono stato in luoghi di provenienza non sono mai stato in Afghanistan questo voglio dirlo chiaro perché sicuramente sono i giornalisti più esperti di me e tra l'altro vi cito una che ho visto che è anche mia amica Marta Serafini magari qualcuno la conosce che scrive per il Corriere e ho un amico videoreportare che tra l'altro con lui ho fatto la ricerca che citavi di Save the Children su minori non accompagnati si chiama Alessio Romenzi che se ho capito bene anche in questi giorni in Afghanistan vi cito come nomi perché se volete seguirli in qualche modo sono ancora a fonte di prima mano su quello che accade e allora non essendoci andato non so non descrivo cose che non so quindi posso raccontarvi i sapori di Kabul o cose che ti portano effettivamente in un'altra lì quello che posso raccontare un po' è cercare di contestualizzare un pochino insomma senza esagerare però un fenomeno uno è un paese che davvero ogni volta che se ne parla io stesso quando ne parlo nei miei servizi lo faccio sempre con una certa dose di emozione pur non essendoci mai stato perché ho conosciuto persone arrivate qua proprio perché è un territorio da sempre viene citata questa parola questo aggettivo indomito che vuol dire che comunque ha attraversato davvero tante influenze esterne e ognuna di queste l'ha in qualche modo non dico rifiutata però l'ha gestita in modo tale che tuttora è un paese per certi versi indipendente pagando caro questa indipendenza perché poi ha portato davvero negli anni a scontri interni molto forti nei decenni anche anzi nei secoli tant'è che c'è questo modo di dire dell'Afghanistan che alla fine le popolazioni varie sono unite quando c'è da lottare contro qualcun altro quando invece poi situazioni interne lì si vedono poi le difficoltà di relazione interna e questo è un po' quello che è avvenuto anche poi nell'ultimo periodo dove dal 96 sono arrivati gli studenti coranici chiamati appunto i talebani sono stati dal 96 al 2001 al potere fin quando è arrivato poi il diciamo c'è stato 11 settembre poi appunto non so con l'aggettivo giusto da dire comunque l'arrivo dagli statunitensi o comunque delle forze della Nato non c'erano solo i talebani prima facendo un attimo il cronistoria c'era comunque un movimento di resistenza molto forte su vari livelli un'altra persona da città si chiama Massoud che è un'altra persona diciamo molto diversa dai talebani molto più come si può dire considerato da molti diciamo come liberatore in qualche modo molto meno soggettato a chiusure mentali che quelle che sono oggi poi legate spesso al regime talebano però è stato assassinato tra l'altro due giorni prima dell'11 settembre il 9 settembre 2001 e tutti questi eventi in quel periodo hanno fatto sì che poi davvero sprofondassi in quello che abbiamo visto poi negli ultimi vent'anni un paese molto instabile che dopo vent'anni nel momento in cui le forze alleate sono andate subito è stato diciamo è tornato dentro la spirale talebana cito solo due esperienze precedenti ovvero un secolo prima no neanche un secolo prima vent'anni prima nel 1979 è stata l'invasione della Russia ma dieci anni dopo sono stati respinti i russi proprio da queste forze interne che hanno proprio ma nonostante per farvi capire se non sbaglio a citare i dati sono state molte vittime moltissime a fronte di 15.000 morti russi soprattutto dell'esercito è stato un milione e mezzo di persone afghane che ha perso la vita quindi numeri incredibili che ci fanno capire come comunque siamo un popolo che non accetta appunto di essere dominato da altri un secolo prima la stessa cosa infatti il secolo prima è successo con l'impero britannico insomma la tentativa di essere lì da parte del Regno Unito dell'Inghilterra è stato anche lì neofragato con una ribellione quindi è proprio un paese a me quello che sconvolge tanti che fa impressione è spesso vedere anche nei volti delle persone differenti tratti tratti somatici di qualsiasi tipo ci ricordiamo le foto con gli occhi azzurri anche perché comunque è un paese da mille sfaccettature anche a livello di 7.000 metri delle montagne fino ad arrivare ad altri territori completamente diversi quindi penso che sia appunto un luogo completamente diverso anche rispetto all'Italia per tante tante cose chiudo con la domanda che mi fai dicendo che comunque la situazione adesso è veramente più complessa ovviamente a livelli incredibili inenarrabili per quanto riguarda la nostra tranquillità europea vi cito così non dico cose lasciate un po' così prese qua e là ma vi cito proprio delle frasi che ha scritto due giorni fa una cara amica che fa la cooperante da tanti anni in Afghanistan è stata evacuata anche lei ad agosto ma appena possibile è rientrata nel paese e lei ha scritto questo pochi giorni fa se vivi a Kabul oggi è molto probabile che tu stia facendo il possibile e anche l'impossibile per sopravvivere con 30 centesimi al giorno e la soglia di povertà è 1,25 dollari e già ti sembra un miraggio entro aprile anche il tuo vicino di casa il tuo quartiere l'intera città il tuo paese sarà purtroppo nella tua stessa situazione oppure se ti ha male finisci in ospedale potresti rischiare di morire assiderato come è successo a tre persone la scorsa settimana manca tutto riscaldamento medicinali e in tanti ospedali pubblici anche il personale chi è rimasto lo fa per senso del dovere e si arrangia come può visto che sono mesi che non vede un soldo speri poi che tuo figlio non finisca mai nel reparto infantile dato che i ricoverati non sono lì per l'influenza e orecchioni ma sono lì per malnutrizione acuta e un milione di loro non tornerà mai più a casa e lei non è una persona catastrofica una persona molto concreta che è quello che dice se prima riuscivi almeno a provvedere alla tua famiglia adesso è possibile che tu sia tra i 15 milioni di afghani quasi il 50% della popolazione che ricevono food vouchers tipo una tessera non aria che ti permette di ritirare i verrati alimentari in punti di distribuzione prestabiliti perché il cibo ci sarebbe anche ma l'inflazione e le stelle non ti permette di comprare praticamente nulla se sei una donna o una ragazza beh le cose si complicano se avevi un lavoro è possibile che tu contribuissi all'economia informale del paese con una piccola attività che sono l'80% dell'economia nazionale questa attività ora se va bene invece lavori da casa se sei una ragazza e il tuo sogno era quello di studiare al momento stai in casa anche tu se sei un bambino è quasi certo che tu stia lavorando per aiutare la famiglia se sei una bambina oltre a lavorare dalla tua famiglia per appianare debiti e per far si che i tuoi fratelli e sorelle possano mangiare e sopravvivere perché le istilità saranno anche finite ma la guerra proprio no quella infatti prosegue nella povertà nella mancanza di opportunità e nella disperazione di tutti coloro che continuano a chiamare l'Afghanistan casa finirei qui questa prima risposta grazie partirei da questo dicevi prima visto che tu sei appunto esperto di viaggio allora partirei da quello che dicevi adesso e da un dato l'Afghanistan ha la terza popolazione mondiale in fuga 2,6 milioni di persone come dato segnaliamo che le persone che sono in fuga per il 68% provengono da 5 paesi siria venezuela afghanistan appunto terza sud 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 e mianmar ecco ti chiederei a partire anche da questo dato qual è la situazione di chi è riuscito a fuggire noi abbiamo visto la fine della nostra estate è stata caratterizzata da quelle immagini lì e ti chiedo appunto di commentare chiunque si è chiesto che fine abbia fatto magari qualcuno si è imbattuto però appunto ti chiedo c'è anche lì nelle sfortune poi sono più sfortune meno sfortune pensate che paradossalmente è stato meglio per le persone che hanno dovuto fuggire ad agosto rimanere nel paese fuggire con un aereo e riuscire ad arrivare chi è riuscito perché vi ricordate forse avete visto tutte le scene dell'aeroporto in cui si cercava di entrare a tutti i costi dei canali umanitari anche io da qua c'erano persone che chiamavano fatemi entrare in quella lista dovevo entrare situazioni veramente toste però nel momento in cui hanno avuto il lascia passare aereo sono arrivate e sono entrate subito nei rispettivi paesi nei sistemi di richiesta di asilo insomma e tuttora spero che quasi tutti abbiano un'accoglienza seppur magari temporanea in via di cambiamento però c'è per vent'anni minimo tantissime persone sono invece fuggite davvero provando la cieca fortuna quindi provando a passare a primo confine con l'Iran non stando in Iran perché la situazione non lo permetteva per gli afghani non c'è la prospettiva a lungo termine in quel paese e loro spostandosi verso la Turchia stando a lavorare in Turchia magari ho conosciuto tanti ragazzi negli anni che sono partiti adesso non mi ricordo l'età di Ali però otto anni mi sembra di otto dieci anni è partito molto piccolo davvero a quell'età ma io ho un figlio di dodici anni e una di otto pensare a miei figli a fare un viaggio da solo da soli del genere mi viene a pelle d'oca ma a quell'età ho conosciuto un ragazzo di quattordici anni per esempio ultimamente sei già più avanti di noi che ne abbiamo trenta o quaranta nel senso perché alla fine la vita ti mette ti dà degli schiaffi proprio ti fa capire proprio subito se sinistra è più pericosa della destra nel momento in cui sbagli sai che devi rialzarti nonostante tutto quindi andare in Turchia vuol dire lavorare non ci sono diritti lavoratori i bambini diritti dei bambini per giocare il diritto al gioco esiste fortunatamente qui ma non altrove quindi diventa proprio una resistenza nel trovare davvero come campare la Turchia però nel tempo è diventata un paese assolutamente difficile tant'è che oggi il numero più alto di rifugiati nel mondo è in Turchia ha tolto il Venezuela ha tolto altre situazioni come la Siria di sfollati interni in Turchia appunto per la Siria visto i siriani che nel forte momento è un paese in cui oggi non riesci a essere più di tanto e non riesci nemmeno cioè non riesci soprattutto a chiedere asilo politico quindi non riesci a avere documenti buoni e allora vai avanti a fare il viaggio nel momento in cui vai a fare il viaggio c'è la gognata Europa ci sono due strade fondamentalmente c'è la Bulgaria e c'è la Grecia e qua vi cito un paio di episodi proprio che ho trovato quando ho fatto questo rapporto di Siria di Children tra l'altro l'ho proposto trovare che si chiama Nascosti in piena vista e mi fa molto piacere tra virgolette piacere anche se comunque non sono cose belle che si raccontano anzi il fatto che per esempio un'organizzazione non governativa molto grande come Siria di Children in realtà in questo caso ha fatto un passo in più rispetto ai suoi rapporti diciamo di ricerca ne sto dando in gestione a un giornalista esterno chiedendo quindi a persone che avevano anche uno sguardo molto più cioè in questo caso diretto sul campo mi ha fatto piacere scriverlo perché ha voluto farlo in una forma narrativa per cui alla fine raccontiamo storie allora tra le storie che racconto c'è questo ragazzo che adesso spero per lui sia arrivato in Inghilterra che dove voleva arrivare lui ho incontrato a Udine in un centro di prima accoglienza si chiama Centro Quarantena perché ultimamente appunto i ragazzi che arrivano dalla rotta balcanica ovvero dopo aver camminato a piedi tra i paesi balcanici arriva a Trieste Udine stai in quarantena per due settimane e poi prosegui il viaggio cioè anche se ti dicono dovevi rimanere qui in realtà poi la volontà di andare altrove è molto forte l'Italia è una zona di passaggio ma magari poi ne parla meglio di questo e questo ragazzo ha detto proprio quando gli abbiamo chiesto come è andato il viaggio perché sei partito lui diceva tra l'altro parlano in inglese migliore del mio che sono laureato in inglese per farvi capire anche un po' cosa spinge ragazzi del genere ad avere un sogno una speranza dicevo ho visto io passavo il mio tempo a guardare la televisione a vedere che c'è un mondo diverso da quello in cui sono cresciuto tra rapimenti e attentati e quindi appena possibile sono partito non mi sarei mai aspettato di rimpiangere l'Afghanistan come rimpiangere l'Afghanistan? sì perché una volta arrivato in Europa che se ci pensiamo bene ha vinto un premio di robe per la pace poco tempo fa è stato veramente trattato in modo brutale dove in questo caso nel suo caso al confine con la Bulgaria o meglio nell'ingresso in Bulgaria tra la componente delle forze bulgare che hanno picchiato ragazzi come lui minorenni non concedendo il diritto all'asilo ma anzi proprio quasi osteggiando osteggiando proprio la richiesta di accoglienza in Europa lui subito veramente tante violenze e se le porta dentro gli dice proprio quella è la cosa che mi ha più mi ha fatto male tuttora mi fa male non lo rifarei proprio per quel motivo lì quindi alle porte d'Europa sta succedendo questo succede al confine con la Croazia e appunto però nonostante questo va avanti quindi c'è proprio l'energia e la forza di volontà nel dire no io voglio andare là e questo spiega tante emigrazioni di oggi del resto il fatto che comunque c'è un là migliore che ti fa superare i muri che ti fa superare che ti fa pagare purtroppo i trafficanti ti porta in un'altra dimensione di vita ti vuoi andare lì ci vuoi andare a tutti i costi un'altra esperienza che cito invece è l'altro passaggio ovvero verso la Grecia sulle isole greche l'isola di Chios Cos Lesbo io ho scritto l'isola dei giusti il libro sull'isola di Lesbo ho visto delle situazioni per cui a un certo punto trovi per esempio un signore di 80 anni e dici ma cosa ci fa un signore di 80 anni ecco intanto accogliamo fai tu presenta presenta Cali grande ciao bene finisco finisco questa parte poi così torniamo c'è questa questo signore 80 anni che è arrivato su un barcone sull'isola di Lesbo dalla Turchia e tu dici con un bastone e la domanda è stata lecita ma chi chi te lo fa fare dove abbandonare così tanto il tuo paese così a questa età e lui ha raccontato che era lì con i nipoti che in quel caso erano alcuni minorenni alcuni no e non se ne sarebbero andati dall'Afghanistan in questo caso quindi è un caso diverso dal ragazzo che vi dicevo prima se il loro nonno non fosse andato con loro quindi lui piuttosto che tenerli lì in un paese che purtroppo appunto è una condizione che dicevamo prima è partito anche lui quindi si è fatto a piedi centinaia se non migliaia di chilometri si è fatto un viaggio per cui rischiando la vita di fatto e quindi andando con i nipoti adesso è accolto in Germania se non sbaglio quindi anche in questo caso è finita bene però purtroppo tante altre volte non è finita bene questi sono due esempi per dirti un po' cosa significa fare quel tipo di viaggio e poi ognuno trova delle esperienze personali ce ne sono davvero davvero troppe non tolgo tempo da lì però appunto vi cito giusto per far capire anche un po' quello che uno ha dentro la forza di volontà quando eravamo ero al confine tra Italia e Francia c'è questo paese che si chiama Ulx lo conoscete magari qualcuno anche Clavier si va anche a sciare in quei posti ultimamente è diventato un posto di passaggio molto intenso verso la Francia di passaggio perché poi le persone magari non vanno in Francia vanno in Inghilterra o in Germania e ogni notte decine di persone provano ad andare oltre in Monginevro che è in quella zona noi li abbiamo accompagnati seguiti fino alla notte con la speranza che il giorno dopo non tornassero al rifugio di alcune associazioni che mi hanno allestito a Ulx perché vuol dire che l'avrebbero fatta invece in quel caso quel ragazzo che vi dicevo che ho conosciuto una sera al rifugio invece la mattina dopo è tornato è stato respinto dalle forze di polizia francese non gli hanno dato nessun documento perché così non è impugnabile a livello di avvocati questa è stata un po' la denuncia del rapporto che abbiamo fatto e il giorno dopo che è tornato mentre il primo giorno era molto contento si è aperto tantissimo ha raccontato di sua mamma ha raccontato davvero ha detto delle frasi molto forti molto emozionanti su perché l'ha portato a fare questo viaggio davvero era a poco dalla conclusione quando è stato respinto non ci ha più parlato era proprio nel suo mondo era proprio chiuso chiusissimo con un orgoglio ferito del dire perché perché vengo respinto lui aveva 17 anni ah 17 anni perché è successo a maggio di quest'anno la sera è stato zitto tutto il giorno alle 8 della sera dopo è ripartito a 7.45 il pullman che ti porta poi per andare ancora oltre le montagne ce l'ha riprovato e la mattina dopo non è tornato quindi significa che ha proseguito il suo viaggio però davvero una forza di volontà che io raramente ho trovato ovviamente io non ce l'ho per esempio insomma sono storie così vi butto lì delle storie per far capire davvero come c'è un'umanità incredibile che per esempio a me dà molto sostegno anche in momenti di difficoltà perché dice vedere la determinazione dell'essere umano davvero ti dà forza insomma beh io ho pensato a qualcosa di simile quando ho letto i tuoi libri e ti ho conosciuto Ali innanzitutto ti chiedo di presentarti di dire chi sei da dove vieni e poi dopo proseguiamo il dialogo va bene c'è il microfono sotto di te ok innanzitutto buonasera vi chiedo scusa perché ho fatto ritardo ho 40 minuti del treno poi un'ora di viaggio con l'autobus quindi abbiamo fatto tardi scusate allora non so se vi conoscete sono Estani Ali e vengo dall'Afghanistan ho pubblicato autore dei due libri e stanotte guardiamo le stelle i ragazzi hanno grandi sogni anche io uno di quelli ragazzi che sognavano un futuro migliore un viaggio che ho intrapreso insieme a mio fratello che aveva 8 anni lui aveva 16 anni e purtroppo abbiamo perso i nostri genitori un viaggio che è durato 5 anni dall'Afghanistan fino all'Italia durante quel viaggio non so se avete letto quella poesia di Giacomo Leopardi che diceva sul pastore narrante dei pastori o la luna dimmi che fai ogni sera che sorgi lui vedeva la vita dei pastori io mi ricordo insieme a mio fratello quando eravamo su quando tramontava noi dovevamo prendere il viaggio di sera mi ricordo tra frontiere dell'Iran e Turchia era di sera siamo seduti io guardavo la luna in quel momento io mi domandavo che fai la luna che osservi vedi la vita di tutti gli immigranti ogni sera che partono con l'esperanza di arrivare in un posto migliore magari qualcuno pensava che è un immigrante disperato però io dentro di me avevo pieno di speranza speranza di andare oltre speranza di farcela speranza di avere una vita migliore come un film al cinema che ha un lieto fine non so se posso continuare o ok infatti durante quel viaggio io spesso dicevo a mio fratello perché siamo partiti come prima dicevi che quel signore anziano uno fa domanda perché tu parti anche io quando ero piccolo sempre dicevo a mio fratello io non voglio andare via dell'Afghanistan voglio rimanere in Afghanistan voglio andare a scuola voglio giocare invece lui mi diceva che noi possiamo andare ovunque vogliamo noi siamo come uccelli liberi mi ricordo quando siamo partiti dall'Afghanistan sempre di nascosto perché quel periodo c'era sempre i talibani adesso di preciso non mi ricordo quant'anni avevi tu? otto anni mi ricordo che durante quel viaggio da Kabul siamo partiti alle 5 di mattina era presto su un pullman su un pullman che a noi hanno nascosto sopra mezzo di valigie quando è partito io dicevo a mio fratello allora noi non siamo liberi perché mi hai legato perché quel periodo c'erano i talibani controllavano se eri di un'altra razza portavano o in guerra o ti ammazzavano per quelle che a noi hanno nascosto l'autista era un Pashtun perché loro potevano circolare liberamente a noi hanno detto dove noi ci fermiamo voi non dovete parlare e i posti di blocco dove non c'erano i talibani lui si fermava noi non parlavamo controllavano dentro c'erano tutti altri passeggeri nel Pashtun però sopra non controllava diciamo che la loro valigie sopra di noi hanno messo delle coperte e tutto il viaggio era quello anche durante la frontiera come diceva prima che dall'Italia che siamo in Europa che l'immigrante che prendono quel viaggio attraversano le montagne per andare in Francia però vengono respinti in Italia però queste frontiere rispetto a quelle frontiere in Afghanistan o in tra l'Iran e Turchia e tra Pakistan e l'Iran più pericolose perché è lì le guardie sparano non guardano a nessuno infatti una volta a noi hanno arrestato la Turchia hanno rimandato in Iran c'era un ragazzo del Pakistan che è andato sopra le mine e è tagliato i suoi piedi tante persone dicevano chi mi ha fatto fare andare prendere questo viaggio infatti anche oggi io mi sento uno di quelli fortunati che sono riuscito ad arrivare e purtroppo mio fratello non ce l'ha fatta durante il viaggio si è andata a vedere anche un documentario che abbiamo fatto Bradar si chiama si può trovare su Raiplay in quel momento che mio fratello decide di andare dalla Turchia verso la Grecia ha comprato un gommone io dicevo perché adesso non mi porti insieme a te mi dicevo questo viaggio è più pericoloso quando ho saputo che anche mio fratello non ce l'ha fatta è morto perché durante quel viaggio con il gommone tante persone che muoiono io avevo undici anni sono rimasto da solo a quell'età io pensavo che non ce la farò più non riuscirò a studiare non riuscirò a realizzare i miei sogni fermami quando ok io credo che a volte una magari in quel momento quando dice che io non ce la faccio in quel momento è importante di non mollare tante volte io volevo mollare tante volte volevo abbandonare perché per me era difficile non ce la facevo però in quel momento ho capito che quando decide di mollare in quel momento è importante di non mollare perché vuol dire che sei destinata ad arrivare in cima è quello che mi dava sempre coraggio ogni volta che io riuscivo a realizzare che tante volte volevo mollare poi continuavo ad arrivare a realizzare la mia destinazione dicevo allora non voglio mollare anche durante il viaggio dal patrasso adesso non voglio raccontare tutti i passaggi sotto il camion tanti ragazzi che hanno letto il mio libro stanotte guardiamo le stelle mi diceva ma davvero 24 ore prima volta 15 ore sotto camion la seconda volta 24 ore sotto camion non ti sei annoiato infatti io sempre dico che se non avevo un obiettivo mi annoiavo subito perché era difficilissimo sotto camion tenerla 24 ore senza mangiare senza bere quindi mentre stavo sotto quel camion pensavo ai miei obiettivi pensavo dicevo una volta che sono arrivato in Italia vorrei andare a scuola vorrei costruire un futuro migliore ecco perché non mi sono annoiato sotto quel camion perché a volte io sempre pensavo alla mia vita come un palcoscenico del ring se non sei pronto a combattere non devo salire su quel ring bisogna essere sempre pronto a combattere a realizzare i tuoi sogni io sempre dicevo il vero campione non è quello che vince sempre ma il vero campione è quello che non molla mai io non ho mai mollato guardavo leggevo sempre le storie di altri infatti mi ricordo quando da Ancona mi hanno rimandato di nuovo a Patrasso dopo 15 ore sotto camion stavo dentro quell'istanza ho perso l'esperanza dicevo no adesso perché dopo 15 ore di nuovo mi hanno rimandato a Patrasso mentre stavo dentro quell'istanza che faceva molto freddo leggevo le poesie di altri ragazzi che come me sono stati arrestati che hanno rispinto indietro dell'Italia e dopo magari quante ore di viaggio che di nuovo hanno rimandato a Patrasso loro scrivevano delle poesie dicevano non bisogna mai mollare le loro poesie mi davano coraggio dicevo ecco anche loro sono stati come me però non hanno mollato mi fermo magari ti chiederei subito come è arrivato una volta che sei arrivato in Italia tu dici la prima immagine che ho dell'Italia è un'immagine capovolta e poi in Italia sei arrivato allora purtroppo abbiamo ancora una decina di minuti però vorrei ancora fare alcune domande la prima appunto che ti rivolgo è come è arrivata cioè come è stato il tuo arrivo in Italia la tua vita qui a un certo punto è cambiata no? prova un po' a raccontarci com'è la tua vita qui allora io inizialmente sinceramente non volevo rimanere in Italia perché volevo una volta che come gli altri che dicevo che si raggiungo l'Italia volevo andare in Germania o in Svezia o in Norvegia come un mio amico Hassan che lui è insieme a me che è arrivato in Italia lui alla fine ha proseguito il suo viaggio adesso vive in Svezia siccome io quando sono arrivato in Italia a Venezia stavo sotto camion dopo 24 ore quando sono uscito perché mi sentivo male hanno chiamato ambulanze polizie mi hanno portato in ospitale per 4 ore dopo quando sono uscito da ospitale polizie mi hanno portato in ufficio di immigrazione hanno preso il mio pronto digitale mi hanno mandato a Roma purtroppo io non potevo proseguire il mio viaggio perché avevo pronto digitale in Italia non so se avete sentito quelle regole del Dublino che il primo immigrante che arriva in una Unione Europea il primo paese europeo si prende la sua pronta digitale si prosegue e va in Germania trovano la sua pronta digitale e non rimandano in quel paese dove è stata la prima volta per quello che non ho proseguito il mio viaggio dicevo che adesso rimango qui in Italia infatti quando mi hanno mandato a Roma mi hanno portato per una settimana e dormivo nelle stazioni centrali di Roma Ostiense quando leggete il mio secondo libro mi ricordo che mio fratello spesso mi diceva una volta che siamo arrivati in Europa sarà tutto facile io pensavo sulle parole dicevo che adesso sono arrivato dovrebbe essere più facile quando sono arrivato in Italia a Roma mi ricordo di mattina quando mi sono svegliato alle 5 di mattina polizie venivano e dicevano dovete svegliare dovete sgomberare le stazioni andavamo in giro io avevo 13 anni guardavo i palazzi che con la luce erano accesi dicevo che dentro di me quando sarà quel giorno che sarò come quelle persone dentro quel palazzo di mattina mi sveglio vado in scuola faccio colazione avrò una vita normale come loro e lì ho pensato non è vero come diceva mio fratello una volta che sei arrivato sarà tutto facile ma sopravvivere fisicamente è facile e sopravvivere moralmente è difficile ho vissuto sia fisicamente che moralmente la vera difficoltà è iniziata quando sono arrivato in Italia perché anche quando sono stato al centro di accoglienza ogni giorno pensavo solamente ai miei studi perché mi ricordo che mio padre spesso mi diceva tu devi studiare loro non lo sapevano leggere e scrivere quando ricevevano ricevevano delle lettere andavano sempre in giro se qualcuno sa leggere o qualcuno sa scrivere infatti mio padre sempre mi diceva vedi che io sono sempre schiavo di qualcuno vado a cercare tu devi studiare purtroppo in afghanese non potevo studiare mi ricordavo sempre le sue parole mi diceva se non studi rimane come un uomo cieco ho continuato a studiare a Roma tutti i miei percorsi dello studio ho fatto a Roma ho fatto superiore all'università mi sono laureato in giurisprudenza e lì ho capito che nella vita bisogna essere forte e sollevarsi dall'accaduto che ci può nella vita e per ricordarci che dopo il tunnel oscuro è pieno di solitudine arrivano le cose molto belle secondo me non esiste un bene se non passa il male ma una persona forte sa come mantenere la sua vita in ordine anche con le lacrime negli occhi per questo che io spesso vado nelle scuole e spesso tante ragazze che hanno letto i miei libri mi ricordo che una ragazza quando ha letto il primo libro mi diceva che all'inizio a lei non piaceva la lettura quando ha letto questo libro ho fatto innamorare per la lettura ha fatto capire che prima di criticare una persona bisogna conoscere la sua storia mi fermo sì così passo dal tuo utilissimo racconto a Daniele chiedo di aiutarci a capire abbiamo sentito una storia particolare tu sia all'interno di vita che in realtà nel reportage che menzionavamo prima racconti di come avviene l'accoglienza in Italia allora ti chiederei in questi cinque minuti di aiutarci un po' a capire anche quali sono i punti critici allora come diceva Ali tuttora in vigore è un sistema paradossale nel senso che comunque c'è questo regolamento che ormai si chiama Dublino 4 perché si chiamava Dublino 1 poi è stato riformato Dublino 2 perché l'hanno fatto Dublino il primo e non per altro non c'entra niente la capitale d'Irlanda tuttora in vigore ma nelle modifiche successive non si è mai modificato quello che diceva lui ovvero che se uno per casi della vita arriva con una nave dalla Sicilia e sbarca dalla Libia o comunque dalla Grecia il primo paese in cui scusate dalla Grecia la Turchia il primo paese europeo in cui arrivi lì devi chiedere l'asilo non puoi chiederlo altrove anche se hai parenti conoscenti d'altri parti no devi chiederlo lì poi potrei fare la unificazione ma passano anche ancora oggi almeno un anno due anni dalla prima risposta alla richiesta d'asilo quindi un tempo lunghissimo che molte volte le persone non aspettano ok semplicemente perché non possono aspettare e stare fermi poi aver fatto un viaggio del genere e vuoi ricominciare subito la tua vita e quindi vuoi andare là dove speri di stare meglio e questo l'ho visto davvero lo vedi tutti i giorni anche oggi quindi ho visto persone che addirittura hanno cercato di togliersi le impronte digitali proprio per riuscire a prendere nuove impronte una volta arrivata nello stato in cui volevano andare questa storia delle impronte succede tuttora invece cioè continua a essere così nel momento in cui sbarchi o comunque arrivi via terra via mare ti vengono prese impronte almeno adesso no a Trieste non succede perché le persone riescono ad andare andare altrove però dove succede comunque il primo paese in cui arrivi tipo la Germania se riesci a arrivare lì ti guardano sei già nel database europeo della polizia europea e vieni subito rimandato al primo paese ma subito vuol dire messo su un aereo è lasciato a malpensa così senza meno male che sono delle associazioni che ti accolgono e sanno che ogni tanto ci sono questi rispingimenti si chiamano appunto e ti vieni chiamato dublinato quando arrivi così la persona dublinata la persona che in base al regolamento di Dublino viene rimandata nel primo paese in cui arrivi se chiedi asilo nel primo paese in cui arrivi appunto la prassa è questa la tua domanda viene esaminata ci sono vari tipi di protezione internazionale probabilmente lo sapete che c'è un sistema più strutturato che il sistema di protezione dei clienti asilo rifugiati che si chiamava SPRAR fino a pochi anni fa è stato modificato con il ministero interno in particolare Salvini che ha cambiato è diventato qualcosa altro si proimi è diventato un altro acronimo in realtà adesso è stato rimodificato perché il decreto di sicurezza su questi punti è stato di nuovo modificato si chiama SAI sistema di accoglienza e integrazione ha ripreso un po' tutte le formule diciamo legislative dell'accoglienza per esempio i cinque anni quello in realtà non sarebbe mai stato tolto i cinque anni di protezione sussidiaria se scappi da guerra adesso la sto facendo un po' veloce perché i tempi sono stretti però ci sono dei permessi più a lungo termine e ha risabilito quello che invece è stato tolto ovvero quello da sei mesi a due anni di protezione temporanea o comunque di protezione umanitaria che è quello che viene concesso nel momento in cui non c'è un rischio come una guerra come un pericolo così a livello di legislazione perché la legislazione dice che comunque in Italia il diritto d'asilo c'è quindi per certe cose devono darti o le basta in alcuni casi per esempio mettiamo le violenze subite in Libia a lungo il percorso i traumi derivanti da storie familiari personali dei paesi di origine viene dato comunque un permesso ovviamente non a tutti le casistiche parlano comunque di una cifra abbastanza bassa di accettazione della domanda d'asilo tu puoi fare ricorso con il ricorso aumenta la possibilità che rimani nel paese però diciamo spesso può accadere che invece sei diniegato il termine è un po' questo quando sei diniegato ti danno un foglio di via lasciare il paese entro sette giorni però non torni in Afghanistan per dirci non torni nel paese di provenienza che dopo anni non vedi e allora cerchi altre strade cerchi di andare a loro andare via o cerchi di nuovo di fare un appello trovare ogni strada legislativa che ti permetta di stare qua io purtroppo ho visto situazioni veramente assurde nel momento in cui sei inserito nel paese hai imparato bene in italiano addirittura un lavoro a tempo indeterminato però la legge cioè la richiesta d'asilo va molto lunga alla fine può darsi che nonostante l'integrazione effettiva vieni rispinta alla tua domanda quindi si cade tutta la tua costruzione di questa seconda vita è pazzesco ultimamente diciamo alcune situazioni vanno meglio da certi punti di vista però il problema rimane il problema tuttora c'è chiudo dicendo appunto che molte persone non vogliono entrare in questo sistema e quindi prendono arrivano in Italia e vanno ok la tratta che dicevo prima da Trieste alla Francia attraverso o Ventimiglia o Urx Clavier è tuttora in vigore le persone anche in Italia pagano i trafficanti che portano la stazione di Milano che poi fanno capire qual è il modo migliore per arrivare da Ventimiglia a Mentone a volte vai lì cambia con le settimane a volte meglio il treno poi meglio il pullman poi meglio invece andare a piedi sul sentiero che collega sopra oppure a piedi in autostrada questo lo dico in modo leggero ma in realtà rischi di morire in situazioni del genere succede anche queste cose quindi quella la tratta diciamo più più in voga adesso perché soprattutto tipo svizzera austria invece ci hanno chiuso in modo molto pesante la rotta addirittura con i droni con l'esercito schierato quindi c'è certe situazioni invece quella la via di fuga che si può come dicevo prima magari una volta viene spinto la seconda pure però dopo riesce non è come in Croazia dove vai via a provarci 20 volte per arrivare dalla Bosnia a Croazia nonostante le botte nonostante le situazioni proibitive però appunto le persone vogliono andare questo lo ribadisco perché è importante nel momento in cui si dice vogliono venire tutti in Italia ma che cosa cioè l'Italia geograficamente appena lo chiede ai ragazzi a scuola ti dicono perché vogliono venire in Italia perché geograficamente dalla Livia si arriva in Italia quello è non si chiama Svezia se si chiamasse Svezia allora le persone arrivano in Svezia no questo per dirvi che davvero è è un punto di passaggio ovviamente qualcuno si ferma si crea situazioni però per farvi capire il numero totale di richiedenti asili o rifugiati in Italia in questi anni di aumento non ha mai superato lo 0,4% vuol dire 4 su 1000 con questo tipo di immigrazione forzata quindi attenzione ai numeri che sono importanti 4 su 1000 non è il Libano dove sono 1 su 3 le persone rifugiate 1 su 3 siamo proprio più del 30% comunque adesso un po' meno però siamo lì come con le cifre quindi questo è importante per capire anche di cosa stiamo parlando perché sono tipi di immigrazione diverse quindi si può ragionare su questo fenomeno in modo più pacato che non succede anche a voi probabilmente litigando sentendo persone che urlano si insultano perché tu vuoi accogliere tutti tu invece non vuoi accogliere nessuno l'importante è davvero riuscire ad avere una sanità mentale per ragionare in profondità nelle cose andando tutti nella stessa direzione non dividersi su queste cose perché sennò davvero non si finisce più allora io chiuderei con un'ultima domanda per Ali siamo partiti all'inizio parlando dell'Afghanistan oggi e chiederei a te come hai vissuto questi avvenimenti e poi l'altro giorno ci siamo sentiti al telefono e mi hai detto insomma che in qualche modo ti stai attivando quindi ti chiedo di raccontare ciò che stai facendo allora lo sapete benissimo che adesso la situazione in Afghanistan è drammatica anche in questi stati che è successo in Afghanistan comunque siccome io appartengo di una famiglia cristiana ci sono in Afghanistan famiglie cristiane ma però sono pochi e conosco 4-5 famiglie 3 di quelle famiglie abbiamo aiutato grazie a Silvia Costa onorevole ex parlamentare di PD anche grazie al ministerio dell'interno siamo riusciti a portare qui in Italia adesso stiamo cercando di fare un progetto anzi già abbiamo fatto il progetto insieme anche una giornalista che adesso è partita in Afghanistan si chiama Barbara Schiavulli che ieri mi ha telefonato che sta in Afghanistan stiamo aiutando le persone che stanno in Afghanistan situazione è drammatica le persone che non hanno il cibo queste tre famiglie che stiamo cercando di portare in Italia quindi adesso stiamo attivando aiutare quelle persone bisognose più queste famiglie che anche l'altro giorno abbiamo mandato un po' dei soldi che stiamo cercando tramite il ministerio dell'interno tramite il Vaticano di portare qui in Italia è questo grazie di nuovo scusate per no no grazie ottimo allora io ringrazio Daniele ringrazio Ali e beh innanzitutto un applauso non aggiungo altro lascio solo un paio di avvisi e poi eventualmente il dialogo per chi è qui può proseguire fuori due avvisi sul teatro Oscar che prosegue con finale di partita di Samuel Beckett in scena giovedì 27 gennaio Mani Bucate uno spettacolo di e con Giovanni Scifoni dedicato a San Francesco in scena venerdì 28 sabato 29 domenica 30 gennaio e Matteotti Medley di e con Maurizio Donadoni in scena dal 3 al 6 febbraio noi invece col teatro del lunedì ci rivedremo tra due settimane il 7 febbraio grazie ancora a tutti anche da casa